Ciao a tutti! Siamo appena tornati dalla scuola. Allora, speriamo che è andato benissimo anche il vostro secondo giorno di scuola e magari il quarto perché ha cominciato già lunedì. Il terzo, il terzo. Ah, è giovedì, quindi il quarto giorno che ha iniziato lunedì. E va bene, e noi facciamo questo piccolo video per farvi vedere una cosa che Annie aspettava tantissimo perché Annie è una che colleziona tutto, vero? E allora, siccome è veramente innamorata di Harry Potter e ci abbiamo proprio lì, il castello di Harry Potter, con tutte le stanze e gli accessori che abbiamo ordinato piano piano, quindi praticamente al completo, anche se Annie mi ha un po' sparsi di qua e di là. Allora, l'unico personaggio che non troviamo da nessuna parte, alla fine l'abbiamo trovato su Amazon, era Silente. Ah, sì, come oggi è arrivato, vogliamo farvelo vedere. Allora, in realtà questo, siccome non era disponibile, in quanto sicuramente molto richiesto, Silente, praticamente abbiamo ordinato un set che contiene tutti questi personaggi per avere anche Silente, vero? Però io ho altri due che non ho, questa e l'una. No, tu hai tutti i personaggi a parte lui. No, non ho questi due. Non hai questi due? No, non c'è solo senza il mantello, neanche... Eh, però ce l'hai. Invece Silente non ce l'hai per niente, è soltanto quello in plastica che abbiamo comprato, che è molto più grande degli altri. Allora, vediamo come si... Vediamo come ha... Aspetta, aspetta, aspetta. Vediamo! Aspetta. Allora, vediamo. Tururu, tutu, tutu, tutu. Tada! Wow! Ma quanto sono belli! Apri tutto? Guarda, ci sono pure i simboli, set verde, grifondoro. È un set! Hai visto? È un set, sì, vedi. Praticamente questo diventa come la sala dove stavano tutti studenti della... come si chiamava? Howard? Sì, Zer. Ecco. Allora, qua c'eri, poi Ermione, Ron, Luna... come si chiamava lui che c'era proprio il nome? Piton. Piton, poi la maestra e Sae Silente. Questa è Minerva. Minerva, la maestra Minerva. Oppure Medrive. Wow! Quindi dobbiamo dire che adesso abbiamo tutti i personaggi! E poi dobbiamo montare queste cose per fare un bellissimo gioco insieme a voi, proprio in questa sala. Perché nel pacchetto è praticamente arrivato anche questo, è carino. Hai visto? Mancano solo i tavolini lunghi e tutti gli altri studenti. Ecco, vedi? In effetti questi sono i tavolini, guarda, vedi che avevo ragione. Guarda, questi poi li montiamo, li facciamo vedere tutti insieme, facciamo un bel gioco insieme a voi. Ciao! Speriamo che vi sia piaciuto questo video perché l'abbiamo fatto veloce veloce, in quanto adesso ci sbrighiamo a fare un bel riposino e la pappa. E ci vediamo nel prossimo video. Se vi è piaciuto questo set, mettete un polliceo nel nostro video e seguitemi per altri video. Poi, se lo volete trovare anche voi, vi dico che si trova comunque su Amazon. Ci vorrà un pochino di tempo per farlo arrivare, in quanto sono già pochini, quindi c'è poca disponibilità, però è trovabile su Amazon. Un bacino a tutti e ciao!